Sono noti qualcosa di strano in questo manichino? Aspetta, ma questo è un manichino? Questo inquietante manichino appare per la prima volta nella vetrina di un negozio di abiti da sposa in Messico che si chiama La Casa di Pasqualita Si dà il caso che nel 1930 la figlia di Pasquala, la proprietaria di questo negozio muore proprio il giorno del suo matrimonio per una puntura di vedova nera La figlia si chiamava proprio Pasqualita e sembra assomigliare molto a quel manichino E con il tempo sempre più passanti iniziarono a credere che quella in vetrina poteva essere la figlia imbalsamata Se guardiamo da vicino il manichino si vedono le vene, nelle mani le pieghe e addirittura le unghie consumate E anche quello che ha nelle sue orbite oculari non sembrano occhi finti e sono addirittura truccati col mascara È solo un manichino o la sposa cadavere?